Media Key SRL è un'azienda nata nel 2005 con l'obiettivo dichiarato di diventare protagonista di un mercato in forte espansione, come quello dei supporti di memoria. La sede amministrativa e logistica è a Livorno, città costiera posta in posizione centrale rispetto ai principali centri economici italiani, nelle immediate vicinanze degli svincoli autostradali. La facilità di essere raggiunti, l'ampio magazzino e gli spazi esterni consentono a Media Key di consegnare la merce in 24 ore in tutta Italia ed in 48 ore in tutta Europa. Tutti i processi industriali sono gestiti con cura e attenzione particolari, al fine di ottimizzare gli spazi e ridurre i margini di errore. L'ampia gamma di prodotti trova infatti la propria collocazione nel magazzino Media Key, in modo da agevolare il picking della merce e il confezionamento del prodotto finale. Il processo produttivo termina con la preparazione delle spedizioni, che prevede la reggiatura e la pesatura di ciascun singolo collo. La necessità di immagazzinare dati, foto e video, condividerli e soprattutto trasportarli, avendoli sempre con sé, è diventata ormai un'esigenza primaria di tutti. I supporti digitali classici, come i CD e i DVD, a cui poi si sono aggiunte le memorie e le pen drive con chip flash e successivamente gli hard disk portatili, rappresentano la soluzione ideale per soddisfare tale esigenza. Media Key è oggi una realtà consolidata nella distribuzione di tali supporti, a cui si aggiungono di continuo nuovi prodotti e tecnologie che anticipano i bisogni di ogni tipo di consumatore. Media Key distribuisce oggi anche lettori MP3, MP4, cornici digitali, networking, accessori di elettronica, informatica e telefonia e si propone sul proprio mercato come un punto di riferimento per i rivenditori e la grande distribuzione.